Il vento di destra che attraversa l'Europa può e deve essere fermato. Rifondazione Comunista e il Partito della Sinistra Europea organizzano a Trieste il convegno, l'avanzata dell'estrema destra nell'istituzione in Europa. Sabato 16 dicembre 2023 a Trieste, presso NH Hotel, dalle ore 9.30 alle ore 19. Ragioneremo insieme a compagni e compagni della Sinistra Europea provenienti da Austria, Slovenia, Croazia, Spagna, Ungheria, a compagni del progetto Alpe Adria e insieme a Dampi, CGL, Arci e tanti e tanti altri. Cercheremo di costruire insieme proposte e prospettive anche in vista delle prossime elezioni europee. Tantissimi osti che invitassi, un programma ricchissimo. Scopri tutti i dettagli su rifondazione.it e sulla pagina Facebook di Rifondazione Comunista. Sabato 16 dicembre 2023 a Trieste, presso NH Hotel, dalle ore 9.30 alle ore 19. L'avanzata dell'estrema destra nell'istituzione in Europa organizzano Partito della Rifondazione Comunista e Partito della Sinistra Europea.